Attento Francesco che il gruppo straordinario si presenta in un modo. Vediamo, vediamo, vediamo. Ma dopo scopriamo. Dando il bagno. Gruppi di cammino rosà. Esatto, esatto. La premessa è cammina un'oretta con noi. Esatto. Altro che un'oretta. Dove? A rosà. A rosà e dalle frazioni di rosà. Paciota del Vettore, Sant'Anna, rosà stessa. Centro. E la partenza è sempre sotto il campanile. Sotto i campanili delle varie frazioni. Qui vediamo foto di tutti i tipi. Vestiti estivi. Sì. Dopo vestiti invernali. Qui si esce in tutte le stagioni. Tutte le stagioni. Con qualsiasi tempo. Obbligatorio. Obbligatorio. Questo è il messaggio. Esatto. Qui eravamo quest'estate. Quest'estate. Al Silan. Al Silan. Al Silan. Al Silan. Per andare sulla valolina. Sì sì sì. Un selfie. Selfie d'occasione. Ah bella bella questa qua. Bella bella bella. Un bel campo di soia. Sì sì sì. E qui. Con qualsiasi tempo. Anche sotto la pioggia. Qui eravamo a Ponte Vecchio. Giusto? Sì. E anche sotto le stelle. Anche sotto le stelle. Eh sì. La partenza. A Travertore. A Travertore. Qua arriva. Qui siamo. Dove siamo? A 30. 30. Sì. Qui lungo una strada. Sì sì sì. Bellissima anche la strada. Qui. Qui la gita fuori porta. A Pedaroba mi sembra se non sbaglio. Organizzata da Moira e Andrea. E qui i gruppi. Bello numeroso qua. Sì. Bello numeroso. Insieme a tutti i gruppi di cammino. C'è anche la cala del gruppo cammino di Rosai e tutti quanti gli altri. Un esempio di dove siamo stati. Sì. Ah. Qui c'è solo un albero infilmato. Ma bello. Sì 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 sì. Bella anche questa. Quando c'è un campo di fiori così. Sì sì. Ci si fa la fotografia. Dietro c'è il sorgo. Sì 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 sì. Fotografie sono d'obbligo. Ogni uscita una fotografia bisogna e tutte queste qua sono tutte le marce. Ecco le altre fuori posta. Esatto. Pensi di camminare solo alla sera? No. Guarda. Guarda. Sempre sempre. Qui si cammina sempre. Di giorno, di sera, di mattina. La rosada. L'inaugurazione della pista ciclabile. Quella che portava a Cartigliano. Che porta a Cartigliano. una lucciolata. Una lucciolata. E una passeggiata tra fiume e montagna. Dopo un assorto. Sì 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 sì. Fini di usci. E se qualcuno indica laggiù qualcosa. Sì. Ha sentito un profumo. sicuramente c'è il profumo di mangiare. Quando si parla di mangiare. Eccoli qua. Tutti contenti. Ci troviamo in 20.000. Quali possibile. 30 persone come minimo. Ah che bene. Ecco per esempio. E danno certo un po'. Hai visto? L'armato. Verso la fine dell'anno. Sì. Perché è il momento del Natale. Del Natale. Del Natale. Qui siamo. Qui siamo. Al Giro Gingon Bell. E stanno facendo un Giro Gingon Bell bagnato. Giro di presepi. Bellissimo anche questo. Ripresa. Della rosaria. Della rosaria. Professionale. Professionale. Molto bello. Molto bello. Bello. Bello sorriso. Questo qua è il Giro dei Presepi. Il Giro dei Presepi di Romano. Molto bello. Eravamo anche qua una trentina. Molto molto bello. Questo? Gesù nasce in una stalla. Benetra sta qua. Benetra. Benetra. Si si si. Si capisce subito. E qua dove è? Una stalla. Andiamo in una grotta. Ed è una grotta. Ecco. Ecco la presentazione ufficiale delle magliette. Molto bello che ci si scrivono. Tutti i gruppi di Rosà, i gruppi di Cammino di Rosà, hanno queste magliette. Evviva. Eh sì. Adesso guardiamo, guardiamo, un evento, un esempio di una serata. Ecco, sei qui. Buona Corrigione, Natale, Manuela. Auguri. Di me, Monica, scusa. Mi levi in cesa? Perché ci sono scritto? Perché ci sono scritto? Per la simpatia di questo gruppo. Nome? Paola. Claudio, perché siamo i più belli di tutti. Mi chiamo Francesco, mi piace questo gruppo perché c'è Adriano, c'è Adriano, c'è. Siamo Pietro e ogni tanto vengo a camminare con me. Mirka, vorrete presto, presto. Dedicata a... A chi? Che cosa saperlo. Presente, Matilde. Mi piace questo gruppo perché così ballo ogni tanto. Faccio New Entry, mi chiamo Mara e speriamo di comportarci bene tutti quanti. Prima volta, ma se il buongiorno si vede dal mattino sarà un buongiorno. Ciao, sono Elena. New Entry, ho trovato vecchi amici. Ciao. È già in prova, è già in prova, è già tutta in prova. Ciao, sono Rosaria. Provo questa sera per la prima volta e sento già che mi sento bene. Ciao, sono Nives, io vengo perché qui trovo allegria e salute. Sì, sì, sì. Basta? Già fatto? Ciao, sono Luisa, mi piace questo gruppo perché facciamo delle belle fastidiate. Ciao, sono Giancarlo, mi piace questo gruppo perché faccio le riprese. E come è stato un esempio di una serata. Una camminata tipica, notturna, molto bella. Sono molto belle anche le camminate notturne. Lungo, anche lungo le roste. Le roste. Le roste de Rosà. E quindi in mezzo. E dove chiediamo incrociare? E qui qua. Chiediamo incrociare che altro gruppo di cammino. Il gruppo cammino di Rosano, siamo il gruppo di cammino traduttore. In incrociare la lana, la palla e tutto il gruppo. E tutto il gruppo di Rosano. Ciao, ciao. Ciao, ciao. E qui, c'è. Lungo, è stop, è stop. Bici. Ah che bravi. Ecco, si gusta il panorama. E anche notturno, profilo di Bassano. E' bello così. Bene, bene, bene. Ciao a tutti. Ciao a tutti.